Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia99 e oggi vi faccio vedere e oggi faremo l'unboxing di un gioco per la Playstation 2 Sonic Riders, questa è la sua copertina 15 anniversario 2006 Sonic the Hedgehog Questo è il fronte, questo è il retro Apriamo, questo è il disco di gioco e il manuale è bianco e nero Bellissimo, è un altro libretto Ok ragazzi, l'unboxing è finita, ci vediamo al prossimo video Ciao